Una vera e propria bocciatura, quella rimediata dal bilancio 2015 per CGL, CISL e UIL. Dopo le audizioni con le parti sociali, associazioni di categorie e sindacati e l'approvazione in prima commissione consigliare, la legge di stabilità e il bilancio di previsione approderanno in Consiglio regionale il prossimo 27 aprile. E in quell'occasione, hanno annunciato ai sindacati, tutti i lavoratori delle principali vertenze aperte protesteranno davanti la sede di Palazzo Moffa. In conferenza stampa, la triplice ha spiegato le motivazioni del giudizio negativo. A detta dei sindacati, non ci sarebbe alcuna equità nel bilancio. Le aliquote IRPEF sarebbero le più alte d'Italia e a danno delle classi più svantaggiate. Altro aspetto negativo, l'assenza di investimenti, al quale si aggiungono le scelte su aziende partecipate che non tengono minimamente conto del confronto aperto e in atto. Altro tasto dolente, sul quale i segretari regionali di CGL e CISL e UIL hanno espresso tutto il proprio dissenso, e quello dei vitalizi. Le scelte che si stanno facendo sul vitalizio sono scelte a nostro avviso sbagliate. Con le scelte che si stanno facendo, si può andare in pensione, si può prendere il vitalizio, dopo sostanzialmente una legislatura e mezza, a 60 anni. Mentre tutti i lavoratori, dopo la legge Fornero, vanno in pensione oltre i 66 anni. Non si capisce sulla base di quale indennità vengono versati i contributi. L'indennità base, l'indennità onnicomprensiva di tante altre voci. Questo sarebbe bene una volta per tutte chiarirlo. Dopo due anni non c'è più margine di tollerabilità, dichiarato il segretario Wille Boccardo, nei confronti delle scelte che questa regione sta attuando. Oggi vediamo una legge finanziaria che cancella di fatto centinaia di posti di lavoro. Questo è inaccettabile, questo non è sostenibile e quindi per questo noi chiediamo che venga posto un emendamento che metta al primo piano l'unico obiettivo vero per questa regione, che è quello dello sviluppo e quello del lavoro. Unica nota positiva l'approvazione del concordato preventivo per la gamma. Approvazione tutt'altro che scontata, puntualizzato il segretario CISL Giovanni Notaro. Intanto scongiura il fatto che i lavoratori tornano in mobilità perché è chiaro che nulla è scontato adesso in questa regione. Non era quello l'obiettivo, per noi l'obiettivo rimane il rilancio della filiera. Ci siamo adoperati come CGL e CISL Giovanni impegnando le categorie anche a livello nazionale. Ieri c'è stato il tavolo al Ministero per cui questa avvertenza avrà anche un osservatorio puntuale al Ministero che ci è utile sia per quello che riguarda il bando ma anche perché noi abbiamo sempre denunciato che gli ammortizzatori sociali hanno una scadenza e il tempo non gioca a favore. Tutto ciò non deve però distogliere l'attenzione dal vero obiettivo, cioè il rilancio della filiera vicola molisana. Poi un appello finale rivolto a tutti i consiglieri regionali affinché le mani non si alzino per votare un bilancio ingiusto e che va modificato.